Bentornati su Dynaut, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda... L'unbox di eccessione per quanto riguarda il Battletone dei Free Sheeter Kurz rilasciato a dicembre 2023 dalla Games Workshop. Questo fa parte dell'Armyset, quindi dobbiamo tenere conto che effettivamente l'armata di Free Sheeter Kurz col libro ufficiale verrà rilasciato quando sarà appunto il 2024. Ora però è già stato rilasciato nel dicembre 2023 la Armyset, trovate eventualmente se siete interessati il link nella playlist che riguarda appunto i Free Sheeter Kurz, quindi potete trovare semplicemente l'unboxing di quello che era l'Armyset e quindi vedere cosa erano in contenuti e questo era all'interno. Ora andiamo a vedere meglio proprio per quanto riguarda questo tomo ed è una cosa che io adoro è proprio per quanto riguarda la faccia stessa, quindi la cover perché questo è Sir Morag of the Dentage Cape e vedremo perché dico questo, perché vedremo meglio più tardi a riguardo e una cosa che veramente ho apprezzato perché questo è veramente un libro fatto bene. Allora, a parte appunto la parte qui, abbiamo qui che è il contorno tutto dorato che sinceramente non mi dispiace affatto, molto bello, abbiamo questa che è la linguetta per segnare la posizione, girando poi possiamo trovare questo che praticamente possiamo andare a vedere è lui, semplicemente questo è come viene visto effettivamente, questo è come viene percepito da lui stesso o comunque dal Deficit del Curse quando lo vedono quindi mi piace davvero questo doppio aspetto, è veramente molto 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 bello ed è qualcosa che personalmente apprezzo tantissimo questo tra l'altro non è stata la mia prima Limited che ho preso per quanto riguarda i Battletom e la prima è stata quella per quanto riguarda i Saraphon ma sinceramente, se andiamo a confrontare, prefisco di gran lunga questa Deficit del Curse è decisamente migliore sicuramente vi approfitto che questa fosse stata la mia prima comunque è molto intrigante ed ammetto che mi piace davvero tanto questa come appunto cover e se andiamo a vedere, questo è stato lasciato nel 2023 ma tecnicamente quello precedente è nel 2019 quindi sebbene non sia stato effettivamente tanto tempo si sentiva quella che era la differenza tra le due pubblicazioni perché pur essendo questo è stato lasciato poco più di 4 anni fa più di 4 anni fa comunque effettivamente tutti gli altri libri dei Death hanno stati rifatti e questo era l'unico che mancava all'appello quindi era un po' un peccato non averlo anche perché nonostante il precedente Battleton, questo del 2019 comunque regisse perfettamente il tutto quello che è il tempo passato si aveva bisogno di un modello o altro e si aveva bisogno di una rinfrescata quindi sinceramente che è stato rifatto era una cosa benvenuta quindi sono contento che sia stato portato quindi ora andremo a vedere per quanto riguarda il tomo quindi a vedere i contenuti, il background e così via ma non mi fermerò molto sulle regole perché per quanto riguarda le regole farò un video separato a parte dove ve le porterò quindi semplicemente andrete a vedere quello se volete vedere l'analisi per quanto riguarda le regole che comunque troverete una playlist dedicata a riguardo in ogni caso ora cominciamo e andiamo a vedere tutto quello che riguarda questo libro quindi andiamo a vedere qui possiamo trovare quella che è la retrocopertina con l'immagine di mio canale che è bellissima e questo che vedete qua non è altro che lui perché è questa parte qui quindi è veramente molto molto bello secondo me è veramente interessante e poi possiamo girare, possiamo andare qui qui troviamo quello che è praticamente la descrizione romanzata se volete di quello che sono i flash intercurs perché possiamo trovare come vengono visti da loro stessi e dall'esterno e io adoro tantissimo questa immagine qui ad esempio perché con questa possiamo vedere quella che è veramente la descrizione dei vampiri cannibali che però si vestono con una certa moda adoro veramente, è fantastico è una cosa che mi piace davvero tantissimo qui possiamo trovare poi quello che è il contenuto all'interno qui possiamo trovare un'immagine che mostra appunto i nuovi modelli anche di flash intercurs contro l'itzangor quindi un'armata di zince e una cosa che secondo me è un ottimo modo per mostrare le armate che avanzano io adoro questo tipo di immagini qui possiamo trovare quello che sono per quanto riguarda the cannibals kingdom dove viene presentata la natura dei goal e dei flash intercurs in generale ricordando anche che eccetto per gli aborant e per i varguuf che sono vampiri tutti ecco che i goal tecnicamente sono vivi non sono dei non morti in senso stretto cioè sono ancora viventi semplicemente sono corrotti dalle magie necromantiche quindi dalle magie necrotiche della necromanzia vengono corrotti e trasformati in quello che sono goal io adoro poi anche le immagini sono veramente fantastiche che veramente qua viene rappresentato come si vedono loro stessi mostrandosi meraviglioso qui possiamo trovare poi questa che è praticamente la stessa cosa che abbiamo visto qui guardate copertina ma colori e quindi questo potete vedere che è praticamente lui ecco che in questo caso qui possiamo trovare qui quello per cui ho detto che prima era il Sir Morgag of Death Ranch Cape perché un agente di Nulamia ha tradotto quello che ha detto quindi possiamo vedere effettivamente lui che comanda e lui è un good warden quindi possiamo vedere che praticamente è lui è fantastico, è una cosa che adoro praticamente lui è il portatore di chiavi e se mi viene in mente una battuta relativa a quello che è per i Ghostbusters sì, è volata, credo è fantastico una cosa del genere qui abbiamo The Carrion King dove possiamo trovare quella che è una breve descrizione della storia di Ushona in forma di racconto esaltante di romanzo, di quello che sono gli avvenimenti qui veramente si mostra come viene percepito Ushona in doppio senso e bisogna stare molto attenti a come si legge con questa immagine qui che poi effettivamente mostra la doppia natura quindi molto bella a mio avviso perché questo rappresenta in tutto e per tutto Ushona e questo è un qualcosa che secondo me mette di essere letto perché mi permette di capire proprio come viene visto come viene percepito, quali sono questo è proprio come viene diffuso il mito di Ushona da fin fine, molto intrigante poi abbiamo The Empire of Delusion qui viene raccontato più in dettaglio quella che è la storia dei Flash Heater Kurz e di Ushona dopo la furga da Shout Cage e si ricollega molto con quelli che sono gli episodi per quanto riguarda quindi il Nekoquake, le Soul Wars, il Rite of Life andando poi a congiungersi con quelle che sono le Don Bringer Crusade perché voglio ricordare che con le Don Bringer Crusade si sono viste molte cose relative ai Flash Heater Kurz nei vari libri tant'è che abbiamo uno degli Araldi nel primo abbiamo dopo Ripresi nel terzo e il quarto libro sarà relativo proprio principalmente ai Flash Heater Kurz quindi sarà una cosa molto intrigante in questo senso quindi secondo me ma è talvero e mostra anche qui come sia Neferato con la sua rete di spie di Lunamian che va a diffondere per i rami quella che è la Curse of Boon di Ushona diffondendo quello che è il licore di Ushona con appunto diffondendolo come mezzo per diffondere questa maledizione mentre si comincia a introdurre anche quello che è il concetto della War of Red Huntry o chiamata da gli umani principalmente come la Cannibal Crusade quindi la mobilitazione dei Flash Heater Kurz da parte di Ushona quindi è molto intrigante che questo mi pare sia qualcosa che dà molto risalto poi abbiamo The Ghoulish Domains qui viene la descrizione dei Flash Heater Kurz nei vari rami di Ejossima qui effettivamente non ci sono proprio tutti però si può vedere appunto come si comportano come interagiscono con i vari rami secondo me è una cosa molto interessante tutte queste ci sono davvero molte molte note di background all'interno quindi io vi consiglio perché metta davvero tanto da andare a leggere potete capire molti dettagli secondo me anche di come vengono e come si comportano i ghoul proprio in queste zone e poi abbiamo The Kingdom of Ghoul qui possiamo trovare che viene scritto cosa succede alla morte dei ghoul e come questi corrompano Sheish perché vi ricordo nuovamente i ghoul sono vivi quindi quando vengono a essere morti le loro anime vengono trasferite a Sheish e qui vanno a corrompere Sheish tant'è che rallentano la capacità del Nadir creato da Nagash di assorbire Sheish stesso quindi una delle opere di Nagash che cerca appunto di facilitare la velocità con cui il Nadir funziona alla fin fine è anche quella che la rallenta è veramente molto contraddittorio nella natura dei Flash Heater Kurz ma è davvero molto intrigante come cosa ed è un qualcosa che sono curioso di vedere come si rifonderà perché alla fin fine proprio alla fin fine la creazione di Nagash sta salvando la realtà di Ijo Sisma da Nagash stesso veramente fantastica qui abbiamo qui che è praticamente una mappa dei reami per quanto riguarda i ghoul su Sheish che può essere molto interessante per vedere appunto come si diffonde qualcosa di molto intrigante qui poi abbiamo The Kimson Chronicles qui possiamo vedere diverse vicende legate ai Fresh Teh Kurz e qui oltre che vedere la storia di nuovo di Ushoornan come si sviluppa altro ma troviamo anche tante informazioni per esempio per un certo giudice come agisce o altro veramente troviamo tantissime informazioni qui che secondo me veramente permettono di sfruttare molto le informazioni perché potendo poteste ricare alcune situazioni o altro c'è veramente tanto materiale qui da leggere a mio avviso poi qui abbiamo The Royal House qui abbiamo praticamente quella che è la descrizione per quanto riguarda la gerarchia per gli Abbrant che ricordo possono essere re, regine ma anche imperatrici e qui sono molto curioso di vedere se effettivamente in futuro verrà rilasciato un modello perché i de' Ghoul li abbiamo già visti come donna però su questo verrà rilasciato appunto in futuro un modello di Abbrant da una vampira femmina però Abbrant qualcosa che secondo me meriterà e comunque qui trovate veramente tantissime informazioni quindi vi consiglio di andare a leggerlo perché merita poi qui abbiamo per quanto riguarda The Grand Courts e qui possiamo trovare quelle che sono le grandi alleanze per quanto riguarda i Fresh The Courts qui il dettaglio per quanto riguarda la descrizione secondo me è migliorato davvero tanto e vi permette proprio di capire eventualmente come impostare perché sono tutti legati in qualche modo a una sorta di cavalierato o altro quindi vi permette proprio di andare a capire eventualmente come impostare il proprio tipo di armata magari aggiornandolo nei vari rami davvero molto interessante secondo me merita ha davvero molto potenziale e poi qui cominciamo con quello che è per quanto riguarda il background per quanto riguarda le varie unità quindi qua possiamo trovare per quanto riguarda Ushona io odoro questa immagine qui perché rappresenta in toto quello che è il modello realizzato veramente davvero simile e qui possiamo trovare il background di Ushona che vi ricordo è essenziale perché praticamente è generatore Ushona è uno dei tre primi vampiri che sono stati chiamati per quanto riguarda Nagash a servirlo perché c'è Neferata, Manfred e proprio Ushona e Ushona nel vecchio fantasy è letteralmente fratello di Neferata nella Camry o meglio in Lamia che è Aran nel Camry quindi veramente molto molto interessante e qui appunto si vede come si viene sviluppato altro sul rapporto secondo me da questo si può ottenere tantissime informazioni mi piacevano tanto poi abbiamo The Regal Brood qui possiamo trovare diverse informazioni su anche quelli che sono nuovi modelli quindi abbiamo per quanto riguarda i sovreni di Larcher Legends quindi praticamente quelli che di solito comandano le armate ricordando che viene parlato anche di quelle che sono regine e imperatrici molto intelligente sono curioso di vedere se verranno riusciti i modelli a riguardo poi abbiamo questo che è il Gran Giudice Gourmain questo è forse uno di quei modelli che mi ha colpito di più perché a background e altra è fantastico non so se giocherò mai effettivamente il modello però veramente è micidiale questo come background è fantastico è inicepibile poi abbiamo The Mirror Scroll Arads questi li abbiamo visti con il primo libro per quanto riguarda i Don't Bring the Crusades perché era lì cioè è stato praticamente introdotto lì e praticamente è lo stesso ed è qualcosa molto interessante perché appunto permette di rivedere un po' come funziona poi abbiamo gli Abramod Cadenas questi sono nuovi e sinceramente micidiali sono veramente fantastici a livello di background il culto che portano è fantastico poi abbiamo gli Abramod Core Wardens e vi ricordo che il tipo in copertina è proprio un Core Warden questi ripeto e che la battuta ci sta sono i portatori di chiavi sì, erano di nuovo pensate a Ghostbusters poi qui abbiamo per quanto riguarda gli altri quindi possono vedere quelli che sono i cortier i vari cortier presenti con anche i Roid Capitator quindi possono vedere effettivamente come vengono generati come si comportano qual è il loro ruolo è sempre un background molto interessante qui possono vedere praticamente le nuove unità perché sappiamo quelli che sono i Cryptcat e quelli che sono i Morgabe Knights e quindi qui possono effettivamente vederli anche in Artwork ed è qualcosa che secondo me è molto interessante e sono modelli che sinceramente apprezzo particolarmente soprattutto i Morgabe Knights qui poi abbiamo quelle che sono le turpe quindi abbiamo i Capit Ghoul i Cthoros i Capit Friars e la Riot Beast Friars sinceramente i modelli sono fantastici sto pensando veramente di andare a comprare e possono vedere che gli Artwork sono qualcosa di fantastico questi Artwork sono veramente eccezionali e quindi a vedere per quanto riguarda la pagina della vetrina delle miniature quindi per poter vedere io adoro perché si può vedere i nuovi modelli già dipinti o altro ma si può dare un'idea di cosa si può giocare quindi è un qualcosa che secondo me mi interviene tanto oltre che poter rivedere un Shorn prima ancora che esca fantastico questo modello che veramente penso ci darò a comprare perché è meraviglioso qui abbiamo il Giudice qui abbiamo questi cioè sono fantastici alla fine fine e sono modelli che non vedo l'ora che escono perché mettono davvero tanto qui abbiamo la Picard e i Morgabe e io adoro tantissimo questa opzione poi effettivamente ammettetelo sono belli da vedere ricordate che potete dipingere come volete non dovete per forza seguire uno schema fisso e potete adattarli a seconda di quello che è Reame di quello che è il vostro stile non vi preoccupate poi io adoro tantissimo queste ambientazioni qui perché ad esempio si può vedere il modello del Giudice se è una sala che giudica è fantastico questi vengono da World Cry e sono dei modelli che sinceramente sto veramente pensando di comprare perché sono veramente molto belli molto caratteristici fantastici e poi io adoro anche questo tipo di ricostruzioni perché praticamente sembra che stanno invadendo la sala e lo stanno difendendo bellissima io adoro queste cose qui è fantastica davvero davvero bella poi ovviamente c'è la parte per quanto riguarda la pittura anche qui secondo me sono sempre cose molto molto utili però ricordatevi che potete decidere di dipingere come volete semplicemente queste sono tecniche che potrebbero tornarvi utili se magari volete prendere qualche spunto qualcosa o magari per dipingere qualcosa in qualche modo queste tornano sicuramente molto molto interessanti quindi meritano e poi passiamo alla parte per quanto riguarda le regole per quanto riguarda le regole vi ricordo che io farò un video dedicato proprio per quanto riguarda le regole che troverete nella playlist in descrizione quindi non vi preoccupate semplicemente è inutile farlo qui e anche se non però non dovresti giocare con le regole io vi consiglio comunque di andare a vedere i vari trafiletti che ci sono perché permettono di avere un'idea di quelle che sono le descrizioni vi danno comunque del background all'interno e sono effettivamente un po' meno regole di prima come quantità però comunque sono molto molto dettagliate molto intriganti quindi secondo me meritano poi ovviamente abbiamo Puff to Glory che come sempre è una campagna che io tendo a non giocare ma che suggerisco sempre di anche qui andare a leggere perché potete avere nelle descrizioni molto di background che vi viene dato che magari vi dà qualche ispirazione per creare qualcosa o altro secondo me merita tanto i battle plan possono essere utilizzati anche in altre opzioni quindi magari anche con il gioco normale quindi non è necessariamente da per forza giocare qui però effettivamente vi permette di avere molte informazioni qui abbiamo quelle che sono i vecchi appunto modi di giocare con i battaglioni però appunto questo modo per tenerli con Puff to Glory secondo me meritano davvero poi anche qui possiamo vedere questa immagine qui e qui vanno a scontarsi con Levis of the Nam che sono quello che collezione per quanto riguarda gli Stomachist Tennis quindi non posso che non apprezzare davvero tanto è veramente fantastico e poi qui possiamo vedere per quanto riguarda le regole per i vari modelli come sempre per questo ricordo non andrò a giudicare qui però vi consiglio di appunto guardarle e come sempre meritano anche perché potete trovare modelli nuovi principalmente modelli nuovi perché non sono stati aggiunti moltissimi però troviamo questi che sono nuovi quindi troviamo comunque cose che sono state portate e secondo me meritano davvero tanto il Marlowscore che come abbiamo detto viene dalle Donbringas come dai Donbringas possiamo vedere che sono state riportate le stesse regole che abbiamo trovato per quanto riguarda l'aggiornamento dei Cryptoros dei Cryptflyers e dei Crypt Bull che comunque sono state riportate qui quindi pian piano possiamo vedere che sono aggiornate le cose e meritano in ogni caso e comunque sia sono regole che vi consiglio di leggere attentamente se siete interessi a giocare perché vi permette di sfruttare meglio le combinazioni eventualmente quindi siete interessati approfittatene qui possiamo vedere l'immagine contro i Seraphon e qui possiamo dare anche un po' la tempistica perché vuol dire che i Seraphon hanno già stati fatti cosa che non è così scontata e quindi i nuovi Seraphon è una cosa che mi piacerebbe tanto in questo senso e poi possiamo trovare anche qui quelli che sono di Ender Spass e altre cose che possiamo trovare qui oltre che c'è Netron che è stato ridotto un po' di quantità però comunque è sempre fantastico qui abbiamo la parte per quanto riguarda i punteggi punteggi che vi ricordo possono cambiare col tempo quindi ok ci sono prendetene atto però non disperatevi o altro sono comunque gratuiti da trovare sull'applicazione però semplicemente ricordate che possono essere cambiati questo abbiamo il retro di copertino di nuovo che abbiamo visto all'inizio qui c'è il codice che aggiunto potete poi trovare sull'app di Warhammer e Joshima quelle che sono le regole per gli stessi e qui possiamo trovare questo che è per quanto riguarda la back cover questo mi fa venire ogni volta in mente lo scarso per quanto riguarda il paragonare appunto quelli che sono i Frischiter Kurz ai bretoniani e non è così uno scarso perché se andiamo a vedere per quanto riguarda gli Andespress qui ci sono i Lio de Fleur quindi un simbolo tipicamente bretoniano e da una cosa che io adoro lo scarso per quanto riguarda i Frischiter Kurz con bretonia perché se andiamo a vedere da background effettivamente quello che sono cioè sono dei delle armate che si reputano dei rami dei cavalieri comunque qualcosa di molto eroico di molto cavalleresco quindi effettivamente chiamarli come bretonia ci sta è una cosa che mi diverte un sacco perché veramente è dall'idea di un qualcosa che rappresenta ed è una cosa che mi piacerebbe vero tanto quindi fantastico oltre che gli altri che essere meravigliosi quindi che dire di questo libro penso che sia fantastico la cover vi ricordo è speciale perché è una limited però i contenuti quando uscirà appunto il battutone dei Frischiter Kurz saranno gli stessi quindi non ci sarà qualcosa di diverso sarà lo stesso semplicemente con una cover diversa ricordatevi questo fattore perché è l'unica cosa che è diversa quando compriete quello in questo caso sono contento di avere questa edizione perché appunto ho avuto le minature prima e ho avuto anche la possibilità di poter leggere le regole altro prima ma rimane comunque un'ottima armata quindi fantastica altra cosa da ricordare è che questo è solo per la parte per quanto riguarda questo libro ricordate che in descrizione trovate la playlist dove troverete sia la parte per quanto riguarda l'unboxing dell'armi set quindi vedete anche cosa c'è all'interno sia anche appena lo rilascio quello che sarà il parte per quanto riguarda le regole dove tratterò più in dettaglio quindi potete andare a vedere quelle quindi semplicemente ricordatevi queste cose qui questo comunque è un'armata che ho apprezzato tantissimo il libro è fantastico a mio avviso quindi ottimo ad ogni modo da Dynamode è tutto vi invito a iscrivervi al canale a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati spero di rivedervi presto alla prossima alla prossima